ci sono cose peggiori che essersi comportati in modo sconsiderato in pubblico ci sono cose peggiori di questi piccoli tradimenti commessi o subiti o sospettati ci sono cose peggiori che non riuscire a dormire per averci pensato sono le 5 del mattino tutte le cose peggiori entrano furtivamente e si ferma gelide sul letto con un aspetto sempre peggiore